Ben ritrovati su Ad Maiora Vertite. Oggi parliamo di un argomento davvero poco poco conosciuto e del quale anche in pochi hanno trattato e che è la sacralità dell'avvoltuglio in Italia. Voi tutti conoscete la leggenda della fondazione di Roma. Romolo e Remo, dovendo decidere chi fra i due sarebbe diventato re, salirono Remo su L'Aventino, Romolo sul Palatino e interrogarono gli dèi affinché mandassero un chiaro segno su chi dei due sarebbe dovuto diventare re. Remo per primo vide sei avvoltoi, Romolo per secondo ne vide dodici. Ma esiste l'avvoltoio in Italia? Gli avvoltoi che esistono in Italia appartengono al gruppo degli ACP3D che sono una categoria di uccelli all'interno dei quali sono inseriti appunto tutti quanti gli avvoltoi. Io già lo so che Willy di Zoespark mi ucciderà. Gli ACP3D vanno distinti dai condor che sono gli avvoltoi del nuovo mondo e che appartengono alla famiglia dei catartidi. Ora, il fatto che i condor per semplificare e gli avvoltoi siano molto simili morfologicamente è solo frutto di una convergenza evolutiva. Non hanno alcuna caratteristica che le assimili tra di loro. Un avvoltoio ha più in comune con un'aquila che non con un condor. Per cui chiariamo questa cosa. Gli avvoltoi del vecchio mondo per cui i veri e propri avvoltoi, gli ACP3D sono una cosa. I condor, che sono quelli del nuovo mondo sono un'altra. Le razze di avvoltoi del vecchio mondo e del gruppo eurasiatico sono cinque. Di queste, quattro vivono anche in Italia. Gli avvoltoi considerate che hanno degli areali abbastanza vasti. In Italia vivono l'avvoltoio monaco cioè l'Igpius monacus il grifoneurasiatico il gips pulbus il capovaccaio madonna che nome che ci ha visto io scusate lo devo leggere il neofron perknopterus e il gipeto e il gipetus barbatus. Queste quattro tipologie di avvoltoio comunque non sono sempre state in Italia. Nella storia recente una buona parte di questi si sono istinti ad eccezione del capovaccaio che ha continuato a frequentare l'area della Sardegna delle isole soprattutto a fini di nidificazione mentre invece le altre tre specie si erano istinte. Sono state in parte reintrodotte con un progetto a partire dal 2013 mentre invece l'avvoltoio monaco è ritornato di propria spontanea volontà nel nord Italia frequentando alcuni laghi alpini. Vi faccio le mie scuse perché non sono riuscito ad indagare ulteriormente l'aspetto archeozoologico di questi uccelli per cui non vi so dire esattamente quale fosse la distribuzione nell'Italia antica però posso darvi per certo che in Italia all'epoca della fondazione di Roma esisteva una di queste due razze che vi sto per dire di avvoltoio l'avvoltoio monaco oppure il grippone questo perché ci sono i resti ossei di un'ala destra in un posto molto importante dei quali vi parlerò dopo e che si ricollega con la fondazione di Roma e appartengono a uno di questi due tipi di avvoltoio. Comunque la principale causa dell'estinzione di questi animali in epoca moderna è legata alla mancanza di carcasse che è legata alla mancanza di predatori che è causata dalla mancanza di animali di grande taglia liberi infatti gran parte degli animali di grossa taglia sono concentrati negli allevamenti e questo appunto limita il principale nutrimento dell'avvoltoio infatti l'avvoltoio è un animale sapropago è caratterizzato da avere da una testa tendenzialmente calva è un animale di grosse dimensioni considerate che l'avvoltoio monaco arriva ad essere alto un metro e dieci con un'apertura alare che arriva quasi a tre metri di ampiezza per cui è una bestia gigantesca si nutrono essendo sapropagi appunto di carcasse animali morti hanno degli artigli che sono stondati più adatti a camminare che non per afferrare prede come farebbe un'aquila posseggono una vista acutissima che gli permette di vedere le loro potenziali prede a grande distanza veniamo però alla simbologia di questo animale una parte di questo discorso l'abbiamo già fatto nell'articolo sul dio volturno del quale vi lascio il link in descrizione e che abbiamo pubblicato sul nostro sito ma prima di cominciare il nostro discorso vorrei fare una premessa alcuni hanno ritenuto di identificare nel termine vultur quello che i romani usano per indicare l'avvoltoio un'aquila in realtà in base ad un ragionamento cioè in epoca tarda si viene a creare in ambito gallo romano una confusione tra il concetto di aquile e il concetto di avvoltoio a causa dei goti i quali prendono come animale simbolo ad un certo punto l'avvoltoio e in base al fatto che alcuni tipi di avvoltoio non hanno il collo lungo ma ce l'hanno abbastanza incassato e quindi si possono confondere guardandoli volare con un'aquila questo argomento però secondo me nella realtà può essere forbiante anzi dimostrerebbe esattamente l'opposto cioè se prendiamo atto di un'ipotesi che è anche plausibile cioè che i romani considerassero vultur cioè avvoltoio tutti gli animali che hanno la forma di un avvoltoio per semplificare e per aquila tutti gli animali che hanno la forma dell'aquila allora dovremmo dire al contrario che per vultur i romani intendono proprio l'avvoltoio che ha il collo lungo mentre invece per aquila avrebbero potuto intendere anche due avvoltoi ma torniamo alle romanes questiones l'origine del termine vultur avvoltoio in latino è abbastanza discussa superate diciamo le ipotesi originali che originari che lo ricollegavano al verbo volo si è proposta un'origine indoeuropea di questo termine che verrebbe dalla radice bull che deriva dalla radice well che significherebbe strappare tagliare dai quali verrebbero infatti anche verrebbero infatti anche i termini latini bulnus cioè ferita e bulsum strappato a questa radice comunque corrisponderebbe anche la radice indoeuropea well che è a vari significati tra i quali anche volgere girare intorno ma anche vertere percepire accorgersi da cui anche vertite che è parte del nostro nome vertere da cui a sua volta deriva anche voltus viso l'origine indoeuropea di questo termine ha però trovato un ostacolo nell'ipotesi dell'origine etrusca infatti il termine latino volturnius che è probabilmente da mettere in connessione con il termine voltus e quindi l'arcaico voltur che è presente per esempio in Ennio è da mettere in connessione con i gentilizzi oppure i nomi etruschi veltur velturna eccetera il termine etrusco sarebbe anche riscontrabile all'interno del nome del dio velturna velturna corrisponde al romano vertumno ed era il dio presente nel panum volturne questo dio era molto probabilmente il dio principale della lega delle dodici città etrusche in tutti questi termini comunque si inserisce la radice etrusca vel che ha il significato di elevato superiore infatti velturna viene indicato da varrone come il dio principe dell'etruria sono riuscito a bruciare la cena mannaggia tutto questo discorso sull'origine del nome ci aiuta comunque a capire e identificare l'avvoltoio soprattutto questa identificazione con questa divinità etrusca ci aiuterà a comprendere successivamente il suo ruolo anche all'interno della religione romana voi sapete che gli etruschi hanno influenzato profondamente la religiosità romana soprattutto quella delle origini l'avvoltoio era già noto in antichità per il fatto che si nutresse di carcasse questo aspetto qui ha generato sia simboli positivi che negativi a dire la verità l'interpretazione negativa ha un solo valore che è lo stesso che gli diamo noi oggi cioè sei un avvoltoio proprio con questo spirito Seneca nelle lettere a Lucilio in riferimento a uno che stava aspettando che il vecchio morisse per fregargli l'eredità gli diceva sei un avvoltoio tutti gli altri aspetti sono invece in qualche modo positivi innanzitutto una leggenda voleva che l'avvoltoio si recasse nei luoghi delle battaglie una settimana prima e che vi girasse intorno delimitandone i confini inoltre volava nella direzione dell'esercito che sarebbe stato sconfitto non solo un'altra leggenda diceva che gli avvoltoio si posassero sulle case tre giorni prima che lì vi morisse qualcuno fra l'altro questo elemento qui è condiviso anche dal corvo tutti questi dettagli fanno sì che alla voltoio si dia una capacità divinatoria di visione del futuro e l'aspetto di delimitazione del campo anche come uccello di confine questa cosa noi la troviamo molto spesso negli uccelli psicopompi si dice psicopompa una divinità un'entità un simbolo eccetera 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 che facilita alle anime il trapasso dal mondo dei vivi al mondo dei morti traghettandole tra l'altro in questo aspetto divinatorio oltre a comparire a Romolo e Remo come vi avevo già detto una notizia di Svetonio è anche che sia comparso a Ottaviano Augusto nel momento in cui trasse gli auspici per il suo primo consolato c'è una puzza di bruciato qua dentro a che se si è una roba a proposito di funzione psicopompa è molto interessante l'esempio degli iberi questo popolo che vitava nell'isola iberica per l'appunto il quale metteva in prima deposizione il defunto alla mercè degli avvoltoi proprio in funzione di uccello psicopompo un esempio simile lo troviamo in Tibet con la cosiddetta sepoltre celeste dove anche in questo caso il defunto veniva posto in un luogo apposito dove gli avvoltoi andavano e ne mangiavano le carni invitati dai sacerdoti un altro esempio del fatto che forse anche nell'ambito romano l'avvoltoi aveva un valore psicopompo la troviamo in Plinio che ci riporta una notizia secondo la quale nessuno aveva visto i suoi nidi e perciò si riteneva che l'uccello venisse direttamente dall'altro mondo tuttavia poi gli stessi romani hanno scoperto che invece faceva i nidi in luoghi arrampicati ma è un riferimento interessante un'altra simbologia lo legherebbe alla purificazione perché la tradizione vuole che gli avvoltoi facessero 13 uova e di queste una la rompessero e usassero l'interno per purificare le altre dodici vedete che anche qui ritorna la questione del numero dodici i dodici avvoltoi questo aspetto del dodici noi lo troviamo spessissimo all'interno della tradizione romana i dodici lettori i dodici ancilli cioè l'ancile originario lo scudo bilobato che Marte inviò al popolo romano più le undici copie fatte da Mamurio Vetturio molto probabilmente tutti questi numeri hanno un riferimento temporale riferimento temporale ai mesi dell'anno tanto è vero che per esempio Mamurio Vetturio viene venerato l'ultimo giorno dell'anno sacro durante il quale viene scacciato in qualità di anno vecchio e il giorno successivo si festeggia Anna Perenna per cui la rinascita dell'anno i dodici avvoltoi sono poi stati anche interpretati già ai tempi di Varrone che stavano a significare 120 anni di pace dalla fondazione della città e 1200 anni di vita per il popolo romano questa cosa della previsione della fine dei popoli non ci deve stupire la ninfa Begoia aveva previsto che gli etruschi sarebbero durati otto secoli e così è stato infatti 743 più 1200 si avvicina di molto alla data al 455 anno del sacco di Roma e di poco distante appena 20 anni dal 476 che è proprio la fine dell'impero romano l'avvoltoio nel mondo romano compare anche come manifestazione della vendetta divina noto è il mito di Tizio il quale dopo aver tentato di violentare la tona Zeus lo punisce cacciandolo nel tartaro e lì due avvoltoi gli mangiano il fegato è un mito greco naturalmente ma che noi ritroviamo anche a Roma similmente una delle varianti del mito di Prometeo vuole che Zeus invii un avvoltoio e non un'aquila a mangiargli il fegato è precisa che questo è per punirlo per la sua invidia e per lo spazio ci sono poi anche altri esempi in cui l'avvoltoio viene utilizzato questa volta sì nel mondo strettamente romano come manifestazione della vendetta divina augurando al malvagio di turno che un avvoltoio gli strappi il cuore mangiandoselo ora perché mai un animale con questa simbologia dovrebbe comparire tra gli altri simboli dell'avvoltoio di anche la capacità di scacciare i mali si dice che bruciandone le piume le penne anzi anche qui Willy non ucciderà si potessero scacciare i serpenti indossando invece un cranio di avvoltoio si può allontanare i serpenti da sé impedire ai ladri di avvicinarsi bene abbiamo visto il quadro della simbologia connessa all'avvoltoio adesso veniamo alla fondazione di Roma abbiamo già detto che Romolo e Remo vedono uno sei avvoltoio l'altro dodici Romolo dodici e Remo sei questa cosa del dodici ne abbiamo già fatto un breve accenno poc'anzi torniamo all'avvoltoio i due invocano Giove ovviamente per trarre gli auspici perché questo prevedeva Enrico e quindi è Giove che manda questi uccelli e che invia questi avvoltoi secondo Ferri è possibile che il Giove Etrusco sia identificabile con Vertumno cioè Veltumna in base alla radice Vel di cui vi ho parlato all'inizio del video perciò ipotizza l'esistenza di un Tinia Tinia è il nome del Giove Etrusco Veltumna e che poi sarebbe stato venerato come divinità indipendente nel Fanum Volturne la stessa posizione sostenuta anche da Tamburini che aggiunge che secondo lui questa doveva essere una divinità degli interi nell'articolo su Volturno abbiamo argomentato della vicinanza linguistica simbologica e e di caratteristiche tra Vertumno e Volturno all'interno del mondo romano per tutti quanti gli argomenti riguardo andatevi a leggere l'articolo per cui prendiamo per buono che ci sia una vicinanza questa vicinanza è presente anche per il tramite dell'avvoltoio ora se Giove è Giove che invia l'avvoltoio alla fondazione di Roma vuol dire che un collegamento deve esserci e forse è questo collegamento del Tinia Etrusco e di Vertumno e Volturno ma il Giove è ottimo massimo ma presumibilmente no forse un Giove infero badate bene nel mondo antico infero e supero non hanno un valore di positivo e negativo ok supero è celeste infero è del sottosuolo che ha anche un'analogia con l'interiorità dell'essere umano dell'individuo per cui appunto infero rappresenta l'interno dell'individuo perciò non ha un valore positivo o negativo come invece nella cultura cristiana dove supero celeste uguale paradiso e infero uguale inferno non c'entra assolutamente niente ecco tornando alla questione dell'avvoltoio ecco forse il motivo per cui noi troviamo nel foro più precisamente nell'apis niger quella pietra nera dove è stata al di sotto della quale è stato ritrovato un epigrata incisa in caratteri arcaici dove la leggenda vuole che Romolo sia morto e dove è stato trovato un heron cioè una sepoltura fittizia che ha il solo fine del culto eroico di un personaggio lì è stato ritrovato la cosiddetta tomba di Romolo datata al VI secolo avanti Cristo quindi all'era dei Tarquini di re ecruschi di Roma e dove sono stati trovati i resti di sacrifici questi sacrifici prevedono in maggioranza la sua vetaurilia cioè quel porco vitello montone che veniva utilizzato nei sacrifici purificatori della città che venivano fatti ogni 5 anni i resti di un cane e di una capra scusate non di un cane resti di cani e capre che sono stati identificati con i riti dell'upercalia questo rito antichissimo finalizzato alla fertilizzazione del terreno e delle donne e infine tre ali destre di avvoltoio dei quali come vi dicevo prima non si riesce ad identificare se si trattasse di grifone oppure avvoltoio monaco trovati lì che cosa ci facessero lì non ne abbiamo idea siamo certi che siano stati sacrificati perché sulle ossa ci sono segni della presenza di coltelli che ne hanno tagliato i tendini una riflessione però la possiamo fare sono appunto datati al periodo dei re etruschi di Roma considerando tutto quanto abbiamo detto prima in merito all'avvoltoio al giove impero e al giove supero connessi al mondo etrusco mi viene da ipotizzare che la creazione di un heron dedicato a quindi una sepoltura fittizia lo ripetiamo dedicato al mitico fondatore di Roma può essere che prevedesse un sacrificio al giove infero al giove del sottosuono e infatti questo si ricollega anche qui a quanto abbiamo detto prima del mito di Tizio confrontato al mito di Prometeo Prometeo viene incatenato alle montagne quindi è nell'ambito del giove supero nello Zeus in questo caso supero e quindi è un'aquila che va a mangiargli il fegato mentre invece Tizio viene inviato nel tartaro quindi nel mondo impero e lì è Giove impero che lo pulisce tramite i due avvoltoi la presenza dell'aquila e dell'avvoltoio è attestato anche da una rappresentazione del quarto secolo dopo Cristo vi metto qui in cui si può vedere Romolo e Reno con la lupa e l'albero con da un lato l'aquila e dall'altra un avvoltoio non voglio approfondire più di tanto questo video perciò per la simbologia del cane della capra e della sovatea origlia vi rimando all'altro articolo che vi lascio in descrizione che è sulla simbologia dell'avvoltoio dove trovate anche tutte le fonti e tutti i riferimenti che vi ho citato in questo video perciò in conclusione l'avvoltoio ha una simbologia che è veramente molto interessante e inserita negli aspetti principali della religiosità romana soprattutto della fondazione rappresenta anche la vendetta divina e ha questa capacità di tenere lontani i mali anche tutta una serie di malattie che non vi ho citato ma che sono nell'articolo che vi ho detto prima ha la capacità di allontanare i serpenti e è evidentemente quindi un simbolo del giove infero che possiamo almeno in parte identificare con Bertugno e Voltusmo questi aspetti di incertezza che vi ho citato queste ipotesi non devono stupirci per l'ambito di tutto ciò che riguarda la religione romana delle origini perché quella è stata stratificata da una serie di piani diversi la religione latina la religione sabina la religione tusca le quali poi sono state in parte compresse rimescolate durante tutta l'età repubblicana anche e soprattutto a causa della perdita di documenti della religione più antica sui quali poi innanzitutto è arrivata la religione greca che ha creato un'unica grande confusione al di sopra di tutto e che diventa fonte di problemi nell'identificare la religiosità romana delle origini anche per la sparizione di culti e miti originali e colmine di tutto questo è stata la cosiddetta restaurazione augustea che ha portato avanti un grande lavoro di propaganda per cui diversi aspetti sono andati scomparendo mentre invece altri sono stati effettivamente ricostruiti e altri ancora mantenuti bene spero che anche questo video sia stato interessante se avete delle domande fatemele pure nei commenti ricordatevi che trovate tutte le fonti nell'articolo che vi lascio il link in descrizione quello sulla Volturno e vi lascio anche il link su Volturno sull'articolo su Volturno perché è estremamente utile per integrare le informazioni che vi ho dato in questo video che vi do nell'articolo perciò mettete un placet condividetelo con i vostri amici anche perché è un argomento che ripeto non viene spesso trattato perciò potrebbe essere interessante se qualcuno si fosse perso l'articolo che avevamo pubblicato va bene allora ci vediamo presto vale tre ottime in pace ad Eorum a prende a a a a a a a Grazie a tutti.